e questa sera alle ore 21 si parlerà di web televisione politica talk shot e non c'è solo carlo freccero ma è un onore per me introdurre questa sera nel nostro salutino anche sandro sandrone d'azieri buonasera sandro ciao ciao a tutti ciao buonasera ciao rompo subito il piaccio con te perché sai che c'è sempre che c'è sicuramente imbarazzo con sandro dicendo che la notte delle elezioni un paio di notti prima tu tu i tasti mettessi su un social network insomma questo articolo questa questa lettera che questo pezzo che hai scritto questo tuo pensiero questo post sul fatto sul movimento 5 stelle era un po' incavolato perché io l'ho sempre pensata così no questo è arrivato a casa una sera una cena discussione sui 5 stelle bisogna votare non votarli e lui gli ha detto guarda che movimento è sbattersi mediare ma tu parti subito cioè in quarta e la cosa fece discutere molti naturalmente dietro disero interessante come dice molti lo insultarono chiaramente ma allora sta cena cos'era successo no la cena non non c'era ma solo nella mia immaginazione no anche perché l'ho scritto che ero abbastanza in campagna isolato ma il era successo che in quel periodo tutti quelli a cui telefonavo che la gente vagamente di sinistra con cui lavoravo molti dell'ambiente lo spettacolo e così via hanno cominciato a dire beh sai sai che ti dico quest'anno voto 5 stelle e 1 2 3 5 10 e intanto leggevo le dichiarazioni deliranti di grillo su cos'è il movimento il megafono le cose parlavo sentivo i militanti dei 5 stelle che dicevano il movimento è questo e quest'altro e io era brividivo perché venendo dal movimento sapendo che cos'è se sentire queste parole mi dava molto fastidio molto molto fastidio il pensare che voglio dire noi tutti spero non tutti solo quelli che seguono magari non è che vengono tutti al movimento anzi spero che sia proprio largo ma noi qua sono in questo posto sappiamo che il movimento è un'altra roba cioè a parte come dico sempre la democrazia è una rottura di coglioni perché tu fai delle assemblee discutiti poi ridiscuti un'altra volta poi c'è qualcuno tempi lunghi lunghissimi poi c'è quello che delira poi c'è quello che si ricorda che ha fatto la guerra punica e ti dice però io la mozione no la mozione magari quella per fortuna l'abbiamo superata però c'è sempre quello che rompe i coglioni quello che tira fuori il polpot quello che tira quello che non c'entra niente alla fine medi e medi e discuti ma quando hai finito di discutere poi vai anche a spillare la birra stai all'ingresso stai a fare il servizio d'ordine sei in corteo questo è il movimento il movimento non è un tizio che urla da un palco vi dice vi dico cosa come la dovete pensare perché tutti gli altri vaffanculo perché è una cosa mostruosa mostruosa il pensare perché non è che dice solo cazzate perché grillo ha detto anche delle cose che uno può dire beh effettivamente ma quello che diceva di giusto lo prendeva più o meno da movimenti perché movimenti di base o da gente che ci ha lavorato per anni e altri mescolava una roba sugli immigrati diceva di quelle robe veramente razziste voi figurati su queste cose proprio rabbrividisco allora ho detto ragazzi io non voto 5 stelle per questo motivo ovviamente subito è partito le reti ma come osi cioè praticamente c'è stato un bombing notevole di 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 5 stelle incazzati e diceva vabbè io gli rispondevo ho imparato con qualcuno ci hai riparlato no perché poi sono spariti perché la cosa divertente poi io ne ho fatti altri tre pezzi poi ho detto ragazzi ma basta perché non è che voglio fare il commentatore politico di professione non è il mio mestiere infatti si vedeva che era più una cosa di pancia che una cosa sì diciamo io scrivo e poi in realtà scrivo anche cose politiche e allora l'articolo che proprio mi hanno mi hanno dato proprio del pezzo di merda è stato quando ho detto ragazzi adesso siamo a così era aprile come state le elezioni maggio? marzo 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 febbraio 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 molto freddo allora marzo ha detto ragazzi la cosa che succederà sarà questo siccome i voti delle 5 stelle hanno preso poi da tutte le parti sta gente viene da tutte le parti arriveranno lì e cominceranno a dividersi in vari chi andrà di qua chi andrà il gruppo misto chi andrà a fare un'altra cosa chi litigherà chi dirà voglio la diaria me la tengo eh chi insomma quelle robe lì che sono basate sul niente perché un gruppo politico è basato su che si basa sul fatto che viene votato in televisione è basato sul nulla non c'è un percorso condiviso cioè tu fai politica no? lo vedete a lui vedete solo me ecco questo che è sì 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 la tua politica politica per te sei stato gruppi di base collettivo cioè gente con cui lavori mangi discuti litighi eh ti fidanzi eccetera con cui fai un percorso esatto ti fai le canne la sera cioè in qualche modo no quelle no però no non si può fare scusa quelle veramente noi no cioè noi solo vabbè noi sono della generazione sigarette elettroniche esatto la carne elettronica allora il il e tu in qualche modo il tuo pensiero lo affini e lo lo condividi lo amalgami diventa un qualche cosa poi ci sarà sempre quello che è un po più di qui un po più di là ma alla fine la pensate allo stesso modo andate a fare una cosa siete compatti certo poi quello che si rompe il cazzo con il traditore l'infamore c'è sempre ma tendenzialmente c'è una una quindi tu dici che sintetizzando fa un romano un romanzo ispirato appunto dal movimento se ne sono stati scritti tanti di meravigliosi un romanzo ispirato da questo magari sarà più complicato arrivano lì e si smontano e infatti è quello che sta succedendo ed è nessuna sorpresa insomma no nessuna sorpresa tristezza perché comunque voglio dire al di là di tutto c'era la così che avevano in mano la possibilità di un cambiamento si alleavano con quei cazzari là del chiudiamo la parentesi invece parliamo un po di libri di libri anche di film chiaramente visto che insomma la cosa abbiamo visto che funziona funziona e ti appassiona però appunto vabbè però siccome non puoi ripetere la cosa che hai detto prima fuori onda non te la che non ti posso fare quella domanda invece mi interessava molto questa faccenda appunto che stavo chiedendo questa fuori onda del fatto che stai seguendo autori giovani ti piace è nata da un'idea diventata un'altra l'ennesima tua professione oppure e qua ti devo interrompere era un obiettivo questa cosa è giusta la domanda ti devo interrompere però obbligatoriamente perché io oggi stesso ho letto un tuo articolo a proposito su global proprio su questo argomento qua e volevo anch'io chiederti questa cosa e chiederti soprattutto ma ti piace fare lo scrittore sandrone lo scrittore mi piace no ma diccelo se non ti piace ma non mi piace ma non è che mi piace se non mi piaccia io la cosa che dico di lui cita un articolo di global rivista online che vi consiglio di leggere e voglio ringraziare pubblicamente chicca che mi segue perché io pubblico un articolo ogni due settimane lunedì ovviamente arrivo la domenica notte lunedì notte cioè però il lunedì ci arrivo quasi sempre almeno e chicca mi segue con molta pazienza insomma cominciano a mandarmi mail allora lo stai scrivendo lei si ricorda comunque tolto questo oggi ho scritto un pezzo in cui raccontavo questa esperienza ero in una libreria dopo una presentazione di di un libro di un altro scrittore raccontavo poi mi sposto sempre quando ho presentato lascio quello scrittore parli con il suo pubblico e regolarmente arriva qualcuno con il manoscritto dice tu lavori per una casa editrice lavoro per la fabbri e mi porta il manoscritto succede questa volta è arrivata una ragazzina di 16 anni che dice ho romanzo pronto vorrei pubblicarlo il mio sogno pubblicarlo e io gli ho detto vabbè guarda queste sono le case editrici mandalo qui mandalo la vedi un po te ma intanto pensavo ma perché non le dico la verità che deve lasciar perdere e perché non è facile dire a uno guarda lascia perdere perché io ho sempre pensato che la scrittura sia una cosa molto bella per me fa parte della mia vita io scrivo sempre io viaggio col computer io non ho non c'è un momento che non scrivo scrivo in bagno scrivo scrivo a letto la mattina apre il computer appena alzato non mi sono neanche alzato ho già aperto il computer scrivo qualcosa non in social netto scrivo proprio cose scrivo pezzi di sceneggiature pezzi di romanzo racconti articoli perché è il mio mondo il mio mondo è fatto di parole però so anche il prezzo che ha questo il fatto che la ricerca costante per esempio della solitudine che non puoi scrivere in mezzo al casino non puoi scrivere mentre ti arriva il messaggino twitter scrivere per un'altra cosa staccare un po diventare un altro mondo ma non solo questo è che poi quando sei molto giovane adesso si pubblica anche se sei ragazzo perché magari ti rivolge un pubblico di giovani hai scritto una cosa che più o meno sta in piedi ma quello che succede poi pubblichi e pensi di aver svoltato perché pubblicato in realtà non succede niente ogni anno si pubblicano in italia 4.000 titoli nuovi 4.000 titoli più uno dei tanti libri che finisce nel bordello le tue possibilità che il tuo libro funzioni qualcuno se lo ricordi qualcuno lo veda sono una su cento una su mille una su 10.000 e quello che succede che quando sei così giovane non è la capacità di dire mi costruisco un percorso di scrittura un mondo un lavoro eccetera ma pensi ho pubblicato sono diventato gli one direction cioè il hai la delusione la frustrazione e questo è quello che ho cercato di dire no ma scrivere mi piace molto ma non so neanche se ero chiaramente ironico però leggendolo in effetti mi rendevo conto della vita sì ma poi siamo in un mondo siamo in un mondo veramente culturale in cui per esempio i libri allora la cosa fondamentale essere recensiti essere conosciuti vabbè ci sono i circuiti alternativi ma se sei recensito su un giornale se vede a fazze o in televisione è chiaro che il tuo libro vende tanto il problema è che con 5.000 titoli le escono ogni anno ma quante sono le tue possibilità di andare lì ma oltretutto quante sono le possibilità che di venire recensito da un critico importante quando anche lui ha la stessa problema dire io devo recensire qualcosa che mi faccia brillare di luce riflessa non posso recensire l'ultimo sconosciuto eccetera quindi è un gioco molto chiuso quello del della della sembra come si parlava della televisione poco fa noi sappiamo dobbiamo mollarti però telegraficamente 30 secondi riesci a risolvermi questo quesito il 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 romanzo e il cinema sì allora questa sioma che si ovviamente non funziona di appunto di riprendere il romanzo e farlo al cinema e quello che mi sembra che invece appunto stai facendo tu di scrivere per il cinema sì magari prendendo dal libro ma questo vuol dire che appunto i libri cioè non si può fare di un libro un film c'era una massima hollywoodiana 30 secondi massimo hollywoodiana dicono da un bel libro viene un brutto film da un brutto libro viene un bel film perché del brutto libro uno è libero poi di adattare cambiare le cose modificare in realtà il problema è la traduzione come tradurre in un'altra lingua tu devi tradurre in un'altra lingua quindi chi lo riscrive deve essere bravo a riscriverlo e allora può funzionare non se tu pensi di stare troppo legato al libro di carta non ce la farai mai se tu pensi di di se non sei capace di scrivere e c'è un bel libro il film viene una schifezza o la serie viene una schifezza quindi conta molto la capacità della scrittura dell'ultimo media che utilizzi quindi è possibile ma è un lavoro hashtag era meglio il libro diciamolo alla fine sempre meglio il libro dipende per esempio fai pensare che c'è che un film che ha superato il libro shining infatti ho visto solo il film e non ho letto il libro bellissimo il libro bellissimo però che posso dire ci sono dei 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 film che sono più belli dei libri non lo so da qui all'eternità il libro non l'ho letto ma il film era bello grazie sandrone per essere stato con noi grazie linea la regia grazie 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 grazie